Ciao ed eccoci a questo Teo delle Cinque che volevo prendere insieme a voi per raccontarvi un po' che cosa c'è di nuovo in questa Sblocca la Porta Deluxe che è il terzo capitolo di Sblocca la Porta, l'Escape Room per bambini, Sblocca la Porta Pocket, sempre l'Escape Room per bambini dei quali ho già fatto una recensione minuta quindi vi rimando a quelle per approfondire questa è Sblocca la Porta Deluxe, come vedete c'è già scritto edizione speciale per famiglie quindi la prima modifica è questa e poi la seconda è che le quattro avventure contenute all'interno della scatola sono state ideate da Leo Colovini in collaborazione con Francesco Berardi, sempre per 1 o 6 giocatori durata dai 30 ai 60 minuti edito dalla Clementoni vediamo quindi il contenuto innanzitutto vediamo che ci sono 4 maxibuste all'interno quindi una dedicata alla casa stregata quindi un'avventura è autocontenuta qua un'altra è l'isola del tesoro, poi abbiamo il mistero dell'Oriente Express e infine la villa di Mr. Gold ciascuna di esse è abbinata a una plancia ovviamente da questa parte ci sono tutti i personaggi dell'Oriente Express dietro c'è la villa di Mr. Gold, poi abbiamo l'isola dei pirati, chiaramente come potete dedurre dal disegno e infine la casa stregata quindi ogni busta contiene dei materiali molto diversi fra di loro, non vi dico niente perché c'è un bel effetto wow quindi li trovate all'interno molto diversi, c'è proprio tanta roba non posso dirvi di più e poi c'è il tipico mazzo di carte con carte numerate da 0 a 28 semplicemente voi girate la prima carta vi dirà come inizia la vostra avventura e quale carta andare a leggere per il primo enigma ogni enigma vi darà come soluzione o un simbolino e poi avrete una piccola scheda con quel simbolino che vi darà un nuovo enigma oppure vi darà proprio come soluzione un numero, quel numero vi farà girare una nuova carta continuerete a giocare carte fino a quando sul tavolo ne rimarranno solo alcune ci sarà una carta che vi dirà se hai solo queste carte sul tavolo hai vinto l'avventura se ciò non avviene perché avete saltato dei pezzi, perché avete sbagliato qualcosa insomma semplicemente dovrete ricominciare da capo la vostra avventura tutto questo appunto per quattro volte il punto di forza di questa escape room è sicuramente un regolamento che è comprensibile da tutti in questo caso però bisogna alzare un attimo il livello di difficoltà nel senso che le altre volte vi avevo raccontato che più o meno con 7-8 anni ce la potevate fare magari all'aiuto di un adulto per dare un po' forma ad alcuni enigmi un po' strani o magari posti in maniera sibillina in questo caso invece bisogna avere delle competenze un po' più elevate nel senso che soprattutto su tre avventure rispetto a quattro quindi tengo fuori quella dell'Oriente Express è necessario avere buone competenze di matematica insomma c'è più matematica all'interno di questi o comunque della logica logica che però prevede comunque dei calcoli matematici se non riuscite ad arrivarci subito ci sono quelle cose che se avete un po' il lampo di genio per come ragionare di fatto non dovrete fare calcoli altrimenti dovrete fare o dei calcoli oppure proprio dei tentativi iniziare a vedere se con uno funziona se con due funziona insomma un po' di competenza in più c'è quindi sicuramente ci vuole un adulto al tavolo oppure il gruppo di ragazzini deve essere molto sveglio e anche la durata in qualche modo ne risente perché se prima riuscivamo tra adulti a stare sotto i 30 minuti tranquillamente in questo caso ci sono stati casi in cui siamo arrivati comunque verso i 60 minuti quindi vi dico è tutto un pochino più complesso da questo punto di vista l'altra cosa particolare è che proprio perché si alza questa complessità e c'è molta più matematica dentro c'è più possibilità di errore nel senso che nelle edizioni precedenti non mi è mai capitato di dover guardare le soluzioni per essere sicuro che avessi risposto in maniera corretta era abbastanza lampante oppure la carta stessa ti guidava nel capire se avevi fatto giusto perché c'era una piccola trama di fondo che in qualche modo si snodava non era particolarmente avvincente mettiamola così però in qualche modo riuscivate a capire se stavate andando per il verso giusto in questo caso invece rispondere 5 invece era 6 la risposta è un piccolo errore vi fa andare avanti l'avventura finché arrivate in fondo e scoprite che di fatto avevate sbagliato qualcosa dovete ricominciare da capo a meno che non vi inchiodate ci sono anche dei momenti in cui potreste proprio inchiodarvi perché vi manca un pezzo vi manca un altro tipo di carta eccetera quindi è un po' più complesso e nel nostro caso tenevamo sotto mano le soluzioni non tanto per vedere la soluzione stessa ma proprio per verificare che stessimo procedendo nella maniera corretta da questo ragionamento ho tenuto appunto fuori però l'Oriente Express perché se vi sono piaciuti gli sblocchi alla porta precedenti questo è quello più vicino diciamo se volete fare una specie di transizione questo è molto simile dal punto di vista dell'atmosfera dalla sensazione di gioco all'escape precedenti quindi potreste fare questo e poi tuffarvi negli altri se andate direttamente su uno più complicato beh vi dico mettetevi pronti perché la sfida si alza di un bel gradino direi quindi che chiaramente si sente che è un autore diverso che ha preparato e ha ideato questa escape room e questo potrebbe voler dire che in futuro potrebbero arrivare escape anche fatti da altri autori in questo caso bisognerà fare molta attenzione nel capire come sono le impronte dei diversi autori per capire anche che tipo di competenze mettere in gioco quindi questa potrebbe essere una sorpresa all'interno della sorpresa e diciamo che la cosa mi incuriosirà siccome so che me lo chiederete allora come vi ho detto la mia preferita è stata Oriente Express perché mi era piaciuto proprio il feeling delle altre escape di sblocca la porta quindi questo Oriente Express secondo me è la mia preferita all'interno di questa scatola al secondo posto metto l'isola del tesoro perché ci sono un paio di trovate che sono proprio belle da scoprire e poi diciamo che metto a pari merito la casa stregata e la villa di Mr. Gold come vi dicevo nonostante sia paradossale perché io sono ingegnere nel senso la matematica dovrebbe essere il mio pane tutta questa matematica diciamo che la vorrei segregare nella zona del lavoro diciamo che mi aspetterei di vedere un po' meno matematica nel mondo del gioco da tavolo detto questo fateci comunque una prova fatemi sapere se la vostra sensazione è la stessa so che in tanti la state giocando e magari qualcuno sta pensando di puntarla per Natale quindi ditemi se sono semplicemente mie sensazioni oppure se è qualcosa di diffuso se avete appunti da fare o magari qualcosa che ho percepito male io ho recepito male io insomma scrivete qua sotto mettetemi pollice su pollice giù e vi dico un bel ciao e alla prossima